Se si cambia il modo con cui guardiamo le cose, le cose che guardiamo cambiano. E' una massima questo che ha ispirato un progetto fotografico della fotografa sudamericana Annelie Lubser, intitolato questo progetto Alienation. L'artista ha pensato di fotografare occhi e fronte di alcune persone e di ribaltare poi le foto, tutte in bianco e nero, ottenendo un effetto alieno. Infatti chi guarda si trova disorientato, riconoscendo dei volti umani nelle fotografie, ma percependo anche una dissonanza con ciò che è abituato a vedere. Ad esempio le rughe e i segni del tempo sulla fronte dei modelli fotografati diventano delle bocche, senza però restituirne la potenza espressiva. Rimangono così delle smorfie uniche e insolite, lasciando una sensazione di curiosità in chi guarda, ma anche tanta inquietudine. Come dire, gli alieni sono fra di noi e in definitiva siamo noi. Grazie, alla prossima.